Questa mattina quattro uomini, due dei quali con il volto travisato, hanno messo a segno una rapina a Cammarata in provincia di Agrigento. In particolare, quattro rapinatori hanno preso di mira il credito cooperativo San Biagio di Largo dei Pini. Secondo una prima ricostruzione, i rapinatori non armati avrebbero fatto irruzione all'interno dell'istituto di credito e avrebbero minacciato gli impiegati presenti. Complessivamente sarebbero stati rubati, ma il conteggio è ancora in corso, 35.000 euro. I quattro uomini sarebbero riusciti a scappare a bordo di una lancia Ypsilon. Scattato l'allarme, al credito cooperativo San Biagio di Cammarata, sono tempestivamente arrivati i carabinieri della locale compagnia. I militari dell'arma hanno avviato subito le ricerche sia nel territorio montano, sia lungo la statale Agrigento Palermo. Successivamente verranno acquisiti i filmati degli impianti di videosorveglianza, che potrebbero aiutare significativamente l'attività investigativa.